Grazie a tutti La puntata che vedremo poi in onda la prossima settimana su canale 5 Noi seguiremo la registrazione in diretta, dandovi in anteprima tutte le anticipazioni su quello Che accadrà in studio, seguiteci per non perdervi tutte le novità in esclusiva Questa nuova registrazione di U Per quella che sarà la scelta finale di Nilou Faradati Chi ha seguito la puntata di questa settimana del Trono Classico sa bene che Nilou Farad Annunciato di essere pronta per la fatidica scelta finale che avverrà tra Giordano e Nicolò Prima dell'atteso momento finale, però, Nilou Farad realizzerà delle esterne con i due corteggiatori all'interno della villa di Uomini e donne, dove proverà a conoscerli, un po', meglio in vista della decisione finale La scelta molto probabilmente avverrà in studio ma senza la presenza Il pubblico, proprio come è già successo con Nicolò Brigante Cosa sarà successo durante le esterne in villa, Nilou Farad avrà già lasciato capire la sua scelta? E poi ancora in questa nuova registrazione di Uomini e Donne, video, scopriremo anche il destino, di Mariano Catanzaro Dopo la segnalazione shock, le sue corteggiatrici ritorneranno in trasmissione oppure gli diranno addio sempre Grazie a tutti